Quando insegniamo dobbiamo formare un progettista, quindi l'oggetto è il progettista, o creare un'idea di progetto in cui poi la persona, lo studente, deve trovare una sua voce. Andrea vuoi iniziare? Io faccio intanto una breve osservazione, che la questione dell'insegnamento è sempre stata una questione centrale nella storia del design, è l'unica attività che ha sempre previsto la componente didattica come una componente di grande importanza, molto più che l'architettura o altre attività creative. Questo in modo fa riflettere dell'importanza del dibattito che avete organizzato e che, devo dire, mi sembra anche caratterizzato, visto che siamo a Milano, dalla totale assenza dei professori del Politecnico e anche della Naba, scuso te. Io penso che in Italia ci sono due tradizioni didattiche in generale importanti. Una è stata quella di vedere l'insegnamento come trasmissione di una serie di nozioni che dal docente passano al discente, allo studente. Questo anche con una visione politica, per esempio così era Pasolini, così è Enzo Mari, così è stato Don Milani, cioè per dire dei nomi che sono stati importanti nella cultura italiana, che è una posizione a mio avviso molto reazionaria, poi nella sostanza molto poco flessibile. Poi invece c'è stato l'altro filone interessante, che comincia già nella fine dell'Ottocento con le sorelle Agazzi, poi con per esempio Bruno Munari, poi con Loris Maraguzzi, questo grande pedagogo emiliano, che invece vedono la didattica come un processo formativo della personalità del progettista. E anche Domus Academy, quando è nata, ha dichiarato preliminarmente che intanto si insegnava per imparare. L'insegna è il primo dei discenti, cioè non consiste nel trasferire il proprio know-how. E l'altro punto che è sempre caratterizzato la mia maniera di vedere l'insegnamento è quello che, diciamo interrompendo anche quella tradizione che in Italia era diventata pesante negli anni 60 e 70 e che era la tradizione della scuola di Ulm, tutta basata su metodologie, addirittura parascientifiche, che avevano anche un suo ruolo storico importante, che però consisteva, per rispondere alla tua domanda, era concentrato nell'insegnamento del progetto. Mentre già nell'82, al momento della nascita di Domus Academy, veniva dichiarato che il problema non è il progetto, ma il progettista. Cioè che la scuola deve formare delle personalità capaci di muoversi con grande autonomia. Cioè, in poche parole, e questa è una cosa che credo ancora è pratico al Politecnico, la scuola deve formare degli autodidatti. Può sembrare un paradosso, ma non è così, perché deve formare delle persone capaci di camminare con le proprie gambe. Altrimenti rischia a questi giovani di uscire, di trovarsi in un mondo molto più complesso, molto diverso da ciò che hanno imparato all'università, perché oggi è ricchissimo di varianti, o hanno la capacità di formarsi in maniera critica, in maniera culturale, oppure è molto difficile che si possa ancora lavorare sul progetto, anche perché è talmente variegato che diventa inconsciente. Grazie, grazie a tutto. Sono molto contento di essere qua con Andrea, perché ovviamente è anche una specie di anello, ovviamente simbolico, è la metà dell'anello che in qualche modo ha disegnato i fondatori di questa scuola. Per oggi non siamo più negli anni Ottanta, né come ciclo economico, cioè agli albori degli anni Ottanta, né come ciclo culturale. Il ventesimo secolo è definitivamente tramontato, una cosa che però non è tramontata è l'idea che l'accelerazione della mente passa attraverso una specie di educazione alla curiosità infinita. Ora, io non sono un designer, non sono un architetto, sono uno scrittore, e anzi, in questi anni di frequentazione assidua professionale, diciamo, ma anche amicale con architetti, mi sono fatto una cultura d'autodidatta coprendo i buchi che avevo, però una cosa sicura l'ho imparata, cioè ho imparato che le scuole dovrebbero formare persone interessanti, aiutare le persone interessanti a diventare più interessanti, e quindi diventare professionisti più interessanti. Una delle cose che è cambiata rispetto alla Domus Academy nei primi anni Ottanta è ovviamente che, come dire, per esempio una cosa molto pratica che è cambiata, che allora Pierre Restanite era, come dire, ovviamente il grande critico, uno dei grandi curatori che oggi è un curatore, insomma, però anche con una grossa tensione teorica, faceva un corso chiamato di tendenze espressive, oggi non esiste più questa cosa dentro la Domus Academy, ed è invece una cosa che io vorrei riportare, non subito, nel frattempo, ma insomma, perché ci sono dei grossi vincoli, nel frattempo tutto è diventato molto più vincolato, mi sembra, e quindi è molto difficile fare, io per esempio vorrei fare un corso che si chiama 2050, 2050, che è basato su questo libro di Lawrence, di un certo Lawrence, pubblicato in Italia da Inaudi, che è un libro che fondamentalmente è centrato su come il centro del mondo nel 2050 non sarà più l'asse, diciamo, Parigi-Londra-New York, ma il circolo polare-artico, per varie ragioni, perché, per ragioni, diciamo, di scioglimento di ghiacci, per ragioni di trasmissioni di merci, per ragioni di flussi di persone, di merci, quindi per l'abitabilità della Siberia, del Canada, eccetera. Ora, lì c'è un problema di strade, per esempio, che è un problema ingegneristico, un problema estetico, un problema sociale, un problema antropologico, ma è un problema economico, e anche un'opportunità straordinaria. Ecco, tutto questo per me è in qualche modo design, cioè disegnare una parte del mondo nel 2050 per far sì che non sia un po' meno orrenda di quello che potrebbe essere, secondo me è un atto di cultura del progetto. Che questo, poi, sia lontano dall'idea di formare delle persone che disegnano oggetti, o che disegnano ambienti, o che disegnano strade, o che disegnano pezzi di città, o vestiti, perché attenzione, una delle cose fondamentali di questa scuola, ed è la cosa per me più eccitante in questo momento, perché è quella di cui sono, come dire, meno di... cioè io sono un direttante in quasi tutto, tranne che nello scrivere, come ha detto qualcun altro, però nel mio direttantismo non conosco, sono ancora più direttante nel mondo della moda, ed è invece adesso capito che può essere, che è una delle parti fondamentali di questa scuola, tant'è vero che ha a presiedere quell'ambito. negli anni Ottanta c'era un vero intellettuale prestato alla moda, cioè prestato, insomma, venduto alla moda, o auto venduto, auto prestato alla moda, bottato alla moda, che era Gianfranco Ferrer, che non a caso era un architetto. Allora, io se dovessi... e so che questo suona un po' naif, però veramente l'unica aspirazione che avrei in questo momento, e un po' l'ho sintetizzato in quella piccola... non è neanche un manifesto, sono degli appunti per un manifesto possibile, perché non è proprio coerente, sono proprio cose molto sparse, però l'unica cosa che desidererei è che lì si iscrivessero persone con l'idea di incontrare altre persone molto interessanti con le quali fare una specie di accelerazione che dura un anno. Al termine di questa accelerazione incomincia la vita professionale, che è ora un tema politico, biopolitico, esistenziale e filosofico, perché la mancanza, l'unemployment rate, il tasso di disoccupazione in Europa e in Italia sta diventando un tema veramente di urgenza. Questo è un tema di design politico ed è tragico che la generazione, che peraltro è straordinaria e eccezionale, quella a cui appartiene Andrea, ma anche quella prima, non abbia fatto, e anche quella dopo, immediatamente o dopo, non abbiano attuato dei progetti tali per cui adesso ci troviamo in questa situazione. è essere molto schietti, perché le persone che si iscrivono a una scuola come questa vogliono fare un'esperienza trasformativa che li porta, in alcuni casi, meno ambiziosi a immaginare di trovare un lavoro, ma nei casi più ambiziosi di inventare nuovi lavori. E questo è il punto. Le scuole devono essere dei posti in cui si inventano, oggi come mai, nuovi lavori, secondo me. Sono assolutamente d'accordo. Questa tra l'altro è una questione politica, di un malinteso politico estremamente diffuso, cioè quello di contare il livello di sviluppo di un paese sulla base dell'assenza di posti fissi. I posti fissi sono una realtà destinata progressivamente a scomparire e il ruolo di un progettista, di un creativo, è quello di inventare lavoro. Questo è fondamentale. Questo è assolutamente fondamentale. Un'altra caratteristica del ventunesimo secolo, effettivamente rispetto al secolo scorso, deriva dal fatto che la progettazione dell'ambiente, la qualità dell'ambiente, mi sembra, non so se c'eri quando se ne hai parlato in Napa, però oggi è costituita solo relativamente dalla progettazione formale degli oggetti o dell'architettura, perché con la crescita della popolazione, siamo ai 7 miliardi, si sta entrando negli 8 miliardi, che nella storia dell'umanità non è mai esistito, allora questo significa che la qualità, una delle qualità fondamentali dell'ambiente è costituita dalla qualità delle persone. E questo è un dato culturale di grandissima importanza politica, civile, ma che non può ancora fare riferimento alle questioni compositive, alle questioni estetiche che sono marginali, sono ormai temi maturi, non si vede, insomma, si vede anche questa storia del riciclo, oggetti orribili, vi pro, riciclati, che ci porteranno in paradiso. Cioè, allora la questione della bellezza, la qualità è una questione fondamentale, però la qualità delle persone è diventata assoluta. E quella è incontrollabile, è ingestibile politicamente, però fa parte degli impegni intellettuali. In questo senso, mi sembra che tutti e due sarebbero d'accordo che la qualità di una scuola è fatta dal formare persone interessanti. E quello dovrebbe essere lo scopo, e su questo penso che siamo tutti... Lo so, è un po' un po' di truismo, però... No, 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 ma in realtà è... No, i metodi per farlo sono ovviamente... Allora, adesso vi chiederei se dovessi pensare a una cosa, cioè se dovessi dire, adesso chiedo a una persona di fare una cosa che può, come dire, un esempio magari banale, un esercizio stupido, un qualche cosa che dica, ok, per formare una persona interessante, una cosa dovrebbe essere questo, fare... Io devo dire che non esistono persone più interessanti degli altri, tutti sono interessanti, tutti hanno delle capacità creative, questa non è un'affermazione generica, questa è chi insegna una premessa fondamentale, cioè non si può lavorare sui primi della classe, non si può selezionare, tutti hanno bisogno di incoraggiarli, io uso questo sistema, chiunque è presente, anche un progetto mediocre, sbagliato, magari gli do qualche dritta, però lo incoraggio ad andare avanti, sempre andare avanti. Tra l'altro c'è un altro fenomeno di quadro che non so se in Nava è così, ma al Politecnico è così, e particolarmente nel settore dove io insegno che è l'interior design, che è l'altissima percentuale femminile, noi abbiamo il 90-95% del progetto, questo sta cambiando completamente la cultura del progetto, quindi anche la didattica, cioè con meno aggressività, con un'intelligenza del tutto, con meno testosterone, ma con più sensibilità, più intelligenza, quindi la presenza femminile sta cambiando profondamente dal suo interno, la genetica stessa del progetto, quindi si aprono, e questi dibattiti sono interessanti, perché si stanno aprendo una serie di scenari del tutto imprevisti rispetto alla modernità classica, imprese di temi antropologici, del sacro, della vita, della morte, del destino, cui la modernità classica ha ignorato, quindi bisogna insegnare anche a entrare in questi territori misteriosi che non sono spiegati dalla ragione classica. Questo mi sembra assolutamente una suggestione molto che condivido pienamente, devo dire però una cosa molto pratica che io farei, ma che stiamo cercando di fare, non la farei, ma la stiamo provando a fare veramente, per esempio, è provare a invertire il tema per cui persone più grandi insegnano a persone più piccole di età, e quindi ci siamo agganciati, ci stiamo agganciando, dire il vero, a un progetto che sta facendo Simon Castell, che è un curatore molto giovane dell'86, con Hans Obrist, che si chiama 89 Plus, che è un sito che parte da una considerazione statistica, cioè oggi il 50% delle persone viventi nel pianeta sono nate dopo l'89, naturalmente non in Europa e negli Stati Uniti, in Europa e in America, ma in tutti gli altri continenti spingono questa statistica verso questo risultato, cioè il 50% nato dopo l'89. Loro cosa stanno facendo? Hanno messo online un sito sul quale le persone nate dopo l'89, quindi con questo vincolo brutale, come direbbe, ma pazzesco veramente, se uno ci pensa, applaudano, mettono online i propri lavori e poi c'è una giuria di persone nate ben prima dell'89 che fa delle decisioni, vabbè, poi su questo uno potrebbe dire, comunque, si crea una specie di agenda o mappa dei talenti creativi o anche ormai sempre più tecnologici e creativi. Ci sono le persone di 21 anni, per esempio l'ingegnere digitale che sta facendo queste applicazioni che poi è un ingegnere artista perché sta facendo queste applicazioni per Bjork, quella di Biofilia, piuttosto che adesso sta facendo una per Lady Gaga, lui ha 21 anni ma sembra che ne abbia 12, cioè su tu lo guardi, quello che vogliamo fare è portare queste persone a insegnare anche alla scuola e partecipare in qualche modo a questa ricerca di talenti che poi molti sono talenti diciamo asiatici in parte africani ovviamente, sudamericani e questa è una cosa molto interessante anche se, ripeto, è veramente un atto di auto cioè una forzatura molto forte è una cosa anche un po' deprimente per chi è nato molto prima perché ti rendi conto però penso che sia per loro che stiamo facendo queste scuole cioè è quello il mondo che andiamo a provare a intercettare almeno che io provo a intercettare no, quello che dice è molto interessante anche quando io dicevo si insegna per imparare cioè questo è fondamentale perché si impara dagli studenti come si fanno i figli i figli ci ci educano assolutamente il disastro avviene quando noi si cerca di educare i figli i figli ci portano i bambini i giovanissimi ci portano un sacco di informazione e una sensibilità che è assolutamente indispensabile quindi questo questo esperimento è un altro delle mutazioni strutturali della didattica invertire i ruoli se posso permettermi questa cosa dei figli io da poco ovviamente fa questa esperienza alla paternità e devo dire che è veramente fondamentale e a maggior ragione direi che nel ruolo di diciamo dean di una scuola cioè direttore tu non hai mai confronto con gli studenti direttamente se non quando si devono lamentare di cose di solito pratiche o non pratiche o più diciamo psicologiche quindi tu fai un lavoro che di secondo grado cioè devi scegliere coloro che assistono le persone in questo processo educativo e questo è un lavoro per certi versi molto eccitante per certi versi un po' frustrante perché tu non partecipi mai in realtà direttamente a quella trasmissione scambio fluido psichico di conoscenza o esperienza o emozione Italo che è un pochino una persona che mi ha portato dentro la scuola Italo Rotter ha detto un giorno una cosa ambassante diciamo con questa sua voce monotona molto bella e fluttuante ha detto che fare una scuola è un atto d'amore questo lo pensavano anche gli antichi diciamo filosofi greci che la vedevano anche in modo diciamo più spinto è in una situazione in the worst sense of the word influenced everything and it was a very blocked situation actually what's happening now it's a obviously I'm a little bit worried and not politics but economics and finance influences for example a private school that relies on enrollment and most of our students come from extra EU country obviously I'm frightened of the possible bankruptcy or things like this but I don't think that this will happen because Italy is very confident that Italy is a very strange, 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 strange regenerator self-regenerator and please I know that this is difficult to understand maybe from outside but this parliament for example and I didn't vote for Grillo but this parliament this parliament is by far probably one of the best parliament in the last decades as far as female women participation as far as age as far as sometimes as far as education and knowledge is concerned so I'm not I'm worried but I think that there is it's a very exciting time and obviously politics influences schools especially in Polytechnic obviously it's a public so it's totally different story but it's it 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 no 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 i do We all strettamente legato all'insegnamento perché io ho sempre insegnato in qualche maniera appunto mettendo scuole, insegnando in ogni modo, è una parte fondamentale, ma io non ho mai pensato di insegnare design, cioè io ho sempre pensato di formare delle persone che hanno delle capacità creative, per esempio non è un perché, per esempio, è da notare che la nuova musica inglese negli anni 60 dai Rolling Stones e Beatles è uscita dalle scuole d'arte, cioè non c'entra niente con i conservatori di scuole di musica, cioè si sono creati dei circuiti creativi che poi hanno avuto esito altrove, le scuole non formano specialisti, devono formare intellettuali, assolutamente d'accordo.